Buongiorno a tutti, video lezione che parla del continente asiatico. Prima di tutto partiamo dal territorio. Cosa dobbiamo sapere? Che l'Asia è il più grande continente della Terra, occupa un terzo di tutte le terre emerse ed è quasi completamente l'emisfero settentrionale. Se andiamo a prendere il planisfero, vedremo come qua passa l'equatore, praticamente tutta l'Asia nell'emisfero nord. Nell'emisfero sud c'è solo una parte di Indonesia. Torniamo indietro, soltanto si vede male questa. Altre caratteristiche, quali sono i confini che lo distinguono, separano dagli altri continenti. E allora abbiamo lo stretto di Bering che lo separa dall'America, vedete qua, stretto di Bering. Il mar di Timor fondamentalmente che lo separa dall'Australia. Il canale di Suez a questa altezza lo separa dall'Africa e poi che lo separano dall'Europa la catena del Caucaso, il mar Caspio e la catena piuttosto bassa dei monti Urali. D'accordo? Visto anche più sul grande, stretto di Bering, il mar di Timor, il canale di Suez, Caucaso, Mar Caspio e Urali. Volendo, proprio perché la Turchia è ancora in Asia, lo stretto del Bosforo e dei Dardanelli e il mar Nero lo separano ancora dal resto dell'Europa. Ok? Tornando a noi, quali sono le caratteristiche fisiche? Vi dice che tutta l'Asia può essere divisa in quattro fasce. Una sotto l'altra, un'area settentrionale composta da immense pianure e alti piani, un'area centrale dove ci sono i più grandi massicci montuosi del pianeta, un'area meridionale caratterizzata soprattutto da grandi pianure alluvionali e una parte insulare. Se andiamo a riconoscerli sulla carta, vedete una parte a nord che è completamente pianeggiante, una parte centrale con molti monti, tra cui le catene montuose più alte del pianeta, Himalai e Karakoram con il monte Everest, il più alto del mondo, e nella zona fascia sud le grandi pianure alluvionali, Mesopotamia, le pianure dell'Indo e del Gange, la pianura del sud-est asiatico, le grandi pianure cinesi. Ed infine un'area insulare, cioè le isole, partiamo dal Giappone, si scende, c'è Taiwan, le Filippine, tutta l'Indonesia per arrivare allo Sri Lanka, l'isola di Ceylon. Ok? Poi, grandi fiumi, andatevele a cercare, sono pochi, e grandi laghi, la Godaral, il Balas e il Baikal. Quello che dobbiamo capire è che in questo continente praticamente alle quattro grandi fasce corrispondono circa quattro grosse fasce climatiche. Quindi, a nord abbiamo queste pianure, ma sono molto fredde, con le foreste di aghi foglie, la tundra, la taiga, il clima polare. Le regioni centrali montuose hanno clima continentale, ma un continentale arido, infatti ci sono anche dei deserti, come il deserto del Gobi, il Tibet, che è un altopiano piuttosto desertico, la fascia delle pianure meridionali e alluvionali, praticamente tropicale, e poi la fascia equatoriale, soprattutto in Indonesia e nel sud-est asiatico, dove troviamo la foresta equatoriale, chiamata anche in questi luoghi giungla. Proseguendo, il libro vi parla poi della storia dell'Asia e per far riferimento alla storia dell'Asia vi chiederei di prendere il PowerPoint. Innanzitutto l'Asia è stata sede di grandi civiltà del passato, la Mesopotamia nel 3000 a.C. e a seguire la Cina. I primi insediamenti delle prime popolazioni, il periodo vedico, guardate 1700-1100 before Christ, quindi prima di Cristo, avanti Cristo, e poi i Fenici che hanno dominato attorno all'anno 1000 il Mediterraneo. Ma non solo, è anche sede di grandi religioni. Se pensate, tutte le grandi religioni sono nate in Asia. Qua in Israele, nell'attuale Israele, in Palestina, sono nate l'ebraismo e il cristianesimo, in Arabia Saudita è nato l'islamismo, in India è nato l'induismo, in Cina sono nati praticamente il buddismo, il confucianesimo, il taoismo, ed è ancora praticata in Giappone lo shintoismo. Quindi tutte le grandi religioni del pianeta sono nate qua. E ancora qua, in parte, sono diffuse. Ad esempio l'islam, la parte gialla, diffuso in tutta la parte occidentale dell'Asia e nell'isola, nell'Indonesia, nell'arcipelago indonesiano, l'induismo in India, la Cina che è per metà buddista e per metà confuciana, c'è anche una buona base di taoismo, il Giappone è shintoista e soprattutto le Filippine, in quanto colonizzate dagli spagnoli, sono ancora oggi cristiane. Grande civiltà del passato, i grandi imperi del passato sono stati quelli di Mahometto, che hanno conquistato non solo il Medio Oriente, ma portando l'islam e con la guerra santa ha conquistato l'Africa del Nord, Spagna e Portogallo. L'impero mongolo, che a metà del Medioevo garantiva la libertà dei movimenti commerciali e infatti grazie proprio all'impero mongolo e alla Pax Mongola, si chiamava così, che si sviluppò la via della seta, che partiva da Venezia, guardate, e arrivava da un lato a Calcutta in India e dall'altro a Xi'an in Asia. Samarkand, vedete, era un po' il centro della via della seta e una delle città più importanti dell'impero mongolo. Vi ho portato infatti un approfondimento, guardatevelo, con, vedete, una città da questi colori riconoscibilissimi, con il blu dominante, la moschea di Bibicanum, dedicata a una delle grandi moglie di Tamerlano, il mausoleo di Tamerlano stesso e la necropoli Shan e Zinda. Proseguendo, nell'età, diciamo così, della colonizzazione, l'Asia è stata colonizzata dai portoghesi che possedevano solo dei porti, vedete, alcuni di quali ancora oggi molto famosi, diventati città enormi come Calcutta, Bombay, detto anche Mumbai, Macao e così via. Poi è stata colonizzata dagli olandesi che raccoglievano le spezie soprattutto, vedete qua, nella terra indonesiana, nell'arcipelago indonesiano e in parte dell'India, ed infine dominata dagli inglesi, che hanno conquistato soprattutto tutta la regione indiana, l'Australia e parte della penisola arabica, nonché poi tutta l'Africa orientale, ma questo lo abbiamo già visto. l'Asia fisica, ne abbiamo già parlato, qua vi fa vedere la distribuzione di popolazione, ricordate appunto, più di metà della popolazione, ma lo dice anche il nostro libro, vive in Asia e anzi metà della popolazione del mondo vive in India e Cina solamente. Qua poi torneremo, ora vorrei tornare al libro invece, per parlare popolazione, questa è la pagina che vi ho sintetizzato con il powerpoint, per parlare di popolazione, e allora la popolazione asiatica è il 60% rispetto a quella mondiale, cresce stabilmente e l'incremento è tuttora rilevante, la distribuzione è omogenea, ci sono zone, abbiamo visto prima come la Cina e l'India dove c'è un'altissima densità di popolazione e zone come la Russia sono praticamente disabitate, è una terra dove si incontrano anche diverse etnie, tutti i mongoloidi, mongoloidi semplicemente perché hanno questi occhi a mandorla tipici dell'etnia mongola, non sono mongoloidi solo i mongoli ma tutte le etnie come i birmani, i tibetani, i siberiani, eccetera eccetera eccetera, quindi i cinesi, i coreani, i giapponesi, che sono indicati sopra. Gli europoidi, cioè che assomigliano come fattezze alle etnie europee, quindi soprattutto i russi, gli armeni, gli ebrei, gli iraniani, gli afghani e poi ci sono alcuni negroidi, soprattutto in Sri Lanka, Filippine e Indonesia. Ok? Ci sono ancora tantissime anche lingue parlate e poi delle religioni ne abbiamo già parlato. Qua avete una carta semplificata rispetto a quella che vi ho fatto vedere prima. Città e megalopoli, guardate la concentrazione di abitanti che anche la concentrazione delle città, come abbiamo detto, a densità altissima in India e in Cina, bassissima soprattutto nel nord del continente, ci sono tantissime città, tantissime megalopoli e infine vi parla di un continente di grandi contrasti. Ve l'ho riassunti meglio nel powerpoint, ovvero da un lato c'è stata negli ultimi 40 anni un'incredibile crescita economica, abbiamo già studiato le tigri asiatiche, sviluppatesi negli anni 70, i paesi arabi, che sono coloro che detengono gran parte delle risorse petrolifere del mondo e Cina e India che da 20 anni a questa parte hanno una crescita strepitosa, anche se con grandi squilibri. Nonostante questa forte crescita economica, l'Asia è per eccellenza un continente di contrasti. Ci sono ancora tantissime disparità sociali, pensate alle caste dell'India che ancora oggi facciamo fatica a estirpare, ancora oggi vengono considerate. Oppure tensioni religiose come in Bangladesh, in Bangladesh c'è una parte di India musulmana, ci sono sempre stati sconte tra induisti e musulmani in India e poi tutti i danni ambientali, pensate alla crescita irregolamentata, quindi senza regole della Cina. Lo smog è qualcosa di inquietante. Quindi questo a grandi linee è tutto quello che dovete sapere. Buono studio!